UAB NEMICO NEL SETTORE POSIZIONE AGGIORNATA POSIZIONE AGGIORNATA AH E' IL CERPA STO RICARICANDO VEDO UN NEMICO TAGLI NEMICI E LA POSIZIONE UAB OSTILI ACHIVO UAB PRONTO ALLUSO POSIZIONE COMPROMESSA LIBERATELA STO RICARICANDO VERSAGLI NEMICI E LA POSIZIONE UAB ALEATO ONLINE GRANATA RICHIEDO RICOGNIZIONE AEREA CONFERMATO UAB OPERATIVO IN ZONA RICERCA DELLA PROSSIMA POSIZIONE UAB OPERATIVO UAB OPERATIVO IN ZONA 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 UAB OPERATIVO UAB OPERATIVO IN ZONA Postazione in spostamento, state pronti, inizia la postazione. UAV di disturbo stile attivo. Aria avversario aggiornata, raggiungo... UAV ostile in servono. I nemici hanno schierato una UAV missile cruzale. Prossima postazione esistente, state pronti. Approvvigionamento alleato in volo, il nostro UAV è in servono. Postazione spostata, conquistate l'aria... Postazione con promessa, liberate... Granate! Nemici nel perimetro. UAV nemico nel settore. Vitolo stile nel settore. Versagli nemici alla distazione. Cambio caricatore. Contatto! Siamo alleati! Attiva! Contatto! Contatto! Resisti. Siamo a metà scontro e stiamo per dentro. Richiedo ricognizione aerea. Ricevuto. UAV in sorvolo sull'area. Ricognizione disponibile. Posizione aggiornata. Conquistate la postazione. Postazione con promessa, liberatela. Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa. Bersagli nemici alla postazione. Sto ricaricando. Nemici nel perimetro. Eccoli qui! Lancia una flashback! Arriva una flashback! Granata partita! UAV attendi istruzioni. Sazione con promessa. Liberatela. Area avversaglio aggiornata. Raggiungete la postazione. Nemici nel perimetro. Perché è stuposi il bastardio? Richiedo ricognizione aerea. UAV di disturbo ostile attivo. UAV ostile in sorvolo. UAV di disturbo ostile in sorvolo. Anche idiota! Siamo alleati! Novo con una carica percorante. Alle tue spalle, soldato! UAV ostile attivo. Sono controvista. Liberatela. UAV di disturbo ostile in sorvolo. Un alleato attivo. Arrivo una scena! Sarebita! Arrivo! Mi sparano addosso! Preparatevi. Richiedo ricognizione aerea. Ricevuto. UAV in sorvolo sull'area. Pondizione disponibile. Postazione spostata. Conquistate l'area adversario. Raggiungete la postazione. Inizio in ferite. Non mi spavano addosso! Attenzione! UAV in uscita dall'area. Per tagli in inizio alla postazione. Postazione compromessa. Liberatela. Prossima postazione imminente. State pronti. Nemici nel perimetro. Sarebbe attorno a tutti i raggiunti. UAV attendi istruzioni. Confermato. UAV in attivo di prova. Sarebbe attesa di istruzioni. UAV, fine autonomia. Sarebbe dentro. Sarebbe attorno a tutti i raggiunti. Ehi, arrivo da dietro! Flash, in arrivo! Preparatevi. Rappeto, ricaricando! Per usare gli nemici alla postazione. Iniezione aggiornata. Conquistate la postazione. Richiedo supporto aereo ravvicinato. Rappeto, liberatela. Stiamo perdendo terreno. Nemici nel perimetro. Vissi in assegno. V-A-V-O-S-E-L-E-N-S-O-R-1. Prossima postazione imminente. Bersagli nemici alla postazione. QS-1-1. Usciamo dalla zona bersaglio. Buona continuazione. Guarda dove spari! Area bersaglio aggiornata. Lancia una granata! Raggiungete la postazione. Bersaglio marcato. Richiedo un attacco. Ricevuto. Nemici nel perimetro. Portazione compromessa, liberate. Portazione in spostamento, state pronti. Portazione compromessa, liberate. Versagli nemici alla postazione. Ricevuto, uo' abito. Portata, conquistate l'area versaglio. Vado qui! Phoenix 23, ricevuto. Phoenix 23, ricevuto. Phoenix 23, Phoenix 23, ricevuto. Uo' abito, e rientro. Abbiamo perso il comando. Ancora partita! Portazione compromessa, liberate. Uo' abito, pronto all'uso. Siamo in vantaggio noi. Richiedo ricognizione aerea. Confermato, Uo' abito, operativo in zona. Mi spara! Sto ricaricando. Mi tagli nemici alla postazione. Prossima postazione imminente. State pronti. Hunter, missione compiuta. Ottimo lavoro. Faccio. Grazie. Grazie a tutti.